Ok, continuiamo la nostra discussione sul condizioni di equilibrio delle forze e completiamo l'esercizio che avevamo iniziato a vedere la volta scorsa. Abbiamo quindi una che ho ricopiato dall'altra pagina, un oggetto, un corpo di massa M su un piano inclinato privo di attrito e l'oggetto è in equilibrio, quindi è statico, ed è collegato ad una mola di costante elastica K. L'angolo di inclinazione del piano è 30 gradi, la massa del blocco sul piano inclinato è di 10 kg, la costante elastica della mola vale 1000 N a fratto metro e il quesito era determinare quant'è l'allungamento della molla. Allora, andiamo a considerare quali e quante forze sono applicate al nostro blocco. Abbiamo tre forze, la forza peso verticale, la forza di reazione vincolare dovuta alla presenza del piano, R, quindi perpendicolare al piano stesso, e la forza elastica con cui la molla che è allungata tende a ritornare nella posizione di partenza e quindi una forza elastica diretta nella direzione a salire lungo il piano inclinato. Dato che sappiamo che il corpo è in equilibrio, allora possiamo dire che la forza risultante deve valere 0, quindi le tre forze in azione si bilanciano, quindi la forza elastica più la reazione vincolare più il peso dell'oggetto danno il risultante nulla. Questa ovviamente però è un'equazione vettoriale. Per risolvere il nostro problema, quindi per determinare la forza elastica e quindi l'allungamento della molla, dobbiamo scomporre le forze in una direzione parallela e perpendicolare al piano inclinato. Qui fatemi individuare, ecco lo scrivo in verde, leggere, due assi, uno nella direzione del piano, diciamo ascendere, diciamo l'asse parallelo al piano e un altro perpendicolare al piano, eccolo qui, nel punto in cui si trova il nostro corpo. Ok, allora, questa adesso, questa equazione vettoriale, la scomporremo in due componenti, una parallela al piano e una perpendicolare al piano. Noi saranno due equazioni algebriche che sono più facili da trattare. Allora, nella direzione perpendicolare al piano inclinato, quali forze abbiamo? Beh, abbiamo l'areazione vincolare R che quindi è diretta tutta lungo, se lo prendiamo come il piano Y nella seconda componente, quindi sarà 0 parallelamente al piano e R perpendicolarmente al piano inclinato. E poi abbiamo il peso, che avrà una parte sia parallela al piano sia una perpendicolare. Abbiamo visto l'altra volta che si scompone come lungo il piano inclinato, P parallelo, che vale P per il seno di alfa e poi la direzione però qui è verso il basso, quindi sarà una componente negativa, meno P perpendicolare, che vale, quindi P parallelo è P seno di alfa, e la componente perpendicolare sarà meno P coseno di alfa. Poi abbiamo parallelamente al piano, avremo la componente della forza elettrica, e la forza elastica, F, che è qui la direzione opposta a quella positiva, quella positiva è verso il basso, mentre F è diretta verso l'alto, quindi sarà meno la K della molla per allungamento, mentre è 0 perpendicolarmente al piano. Ora abbiamo quindi queste tre forze, fatemi riscrivere, abbiamo la reazione vincolare, il peso, e la forza elastica, vediamo nelle componenti, quindi qui abbiamo questa è la componente perpendicolare, questa è la componente parallela, la seconda perpendicolare al piano, quindi R, P, A, P, sen alfa, e meno P, cosen alfa, e la forza elastica, è meno K delta L, e 0 perpendicolarmente al piano. Dobbiamo sommarle, la somma di questo dà la forza risultante, e quindi, dopo che l'abbiamo scomposte, la risultante è la somma algebrica delle componenti, quindi qui avremo 0 più P sen alfa, meno K delta L, e qui avremo, perpendicolarmente al piano, R meno I cosen alfa. Queste componenti devono essere entrambe nulle, perché la forza risultante, essendo il corpo in equilibrio, ha componenti 0, da cui troviamo il seguente sistema. Nella direzione parallela al piano, abbiamo che P, sen alfa, meno K delta L, deve darci 0, e perpendicolarmente al piano, R meno P cosen alfa, deve darci sempre 0, e quindi avremo che, il P sen alfa, cioè la parte del peso parallela al piano, bilanciata dalla forza elastica, quindi alla stessa intensità, e la reazione vincolare bilancia la parte del peso perpendicolare al piano. Questa non ci interessa, quella che ci interessa a noi è la prima, perché la nostra incognita è delta L, quindi K volta delta L vale P per il seno di alfa, e quindi l'allungamento della molla sarà uguale al peso per il seno dell'inclinazione diviso la costante elastica, ovvero sia ancora meglio, al posto del peso mettiamo M per G per il seno di alfa diviso K. Quindi nel nostro caso avremo che delta L è la massa del blocco che è 10 kg, per l'accezione di gravità che è 9,81 m al secondo quadrato, per il seno di 30 gradi, che come tutti ben sapete, avendo fatto un po' di goniometria, vale un mezzo. E sotto, scusate, al denominatore abbiamo K che era 1000 N frattometro. Quindi abbiamo kg per mettere il secondo quadrato fa N, che si semplifica con N, e quindi il risultato sarà in metri, potemi prendere la calcolatrice, quindi abbiamo 10 per 9,81 per il seno di 30 diviso 1000 e viene 0,04905 metri, quindi circa 5 centimetri. Ok? Quindi la molla si allunga di 5 centimetri. Se non ci sono domande, cambio leggermente esercizio, facciamo un esercizio simile a questo, quindi ripeto, qual è qui la chiave? La chiave è la condizione di equilibrio, cioè il fatto che la somma delle forze applicate è nulla. Si traduce in un'equazione vettoriale che possiamo scomporre in una direzione perpendicolare, una parallela al piano, e essendo la condizione di equilibrio data dal fatto che la forza è nulla, devono essere nulle la risultante sia parallelamente al piano sia perpendicolarmente al piano. Perché otteniamo le equazioni algebriche che ci servono per risolvere il nostro problema. Tutto qui. Proviamo quest'altro esercizio. Prendiamo per esempio ancora un piano inclinato. Questa volta non metto la molla. Inclinazione alfa. Abbiamo un blocco sul piano. Un blocco 1, diciamo. Appeso ad un filo, un cavo inestensibile. Qui c'è una caducola. e qui c'è un altro piano appeso, un altro oggetto appeso verticalmente. Questo è il corpo 2. Diciamo che M1 ed M2 sono le due masse dei due oggetti. Alfa è l'inclinazione. La domanda è se M1 vale che ne so, 10 kg. Quanto deve essere M2 affinché il sistema sia in equilibrio. Ok? Per realizzare l'equilibrio. Cioè in modo tale che le forze applicate sia ad 1 che a 2 siano nulle. D'accordo? Attenzione. Questa fune o un cavo è inestensibile quindi ha lunghezza fissa per cui per esempio se il corpo 1 si sposta verso il basso di un centimetro il corpo 2 sale verso l'alto di un centimetro. La lunghezza del cavo non cambia. Quindi il moto del corpo 1 si traduce immediatamente nel moto del corpo 2 e viceversa. qui abbiamo da lavorare su due oggetti stavolta. Focalizziamoci sul corpo numero 1. Sul corpo 1 fatemelo rappresentare in questo modo qui c'è il piano inclinato agiscono anche in questo caso tre forze. C'è sempre la forza peso la reazione vincolare del piano e la tensione del filo che prima faceva era rappresentata dalla molla legata al corpo. Quindi queste tre sono le scusate qui vediamo questo chiamiamolo più 1 perché è il peso del corpo 1 qui abbiamo due pesi più 1 e più 2. Allora per quanto riguarda il corpo 1 ripeto possiamo ripetere l'aggiornamento di prima quindi perpendicolarmente al piano la forza vincolare r bilancia la parte del peso perpendicolare al piano quindi bilancia più 1 per il coseno di alfa mentre perpendicolare questa è la parte perpendicolare parallelamente al piano è la tensione del filo T che bilancia la parte del peso parallela quindi più 1 persa in alfa d'accordo quindi la tensione del filo è uguale alla parte del peso P1 parallela al piano quindi P1 sen alfa nel caso del corpo 2 la situazione è un po' più semplice perché il corpo 2 è speso verticalmente quindi sul corpo 2 agisce il peso P2 e la tensione della fune T che stavolta è diretta verso l'alto qui non ho altri componenti quindi T deve essere uguale a P2 a tutto P2 la tensione del filo bilancia P2 attenzione ho usato lo stesso vettore sia per il corpo 1 che per il corpo 2 per la tensione perché il filo è privo di massa e se le tensioni fossero diverse se il corpo 1 producesse una tensione diversa da quella del corpo 2 vorrebbe dire che se ai capi del filo ha tensioni diverse il filo si allunga o si accorcia invece in realtà le tensioni devono essere identiche quindi la tensione che agisce sul 2 è la stessa che agisce sull'1 il filo si intende privo di massa un filo di massa trascurabile quindi le due tensioni sono identiche quindi abbiamo le seguenti condizioni che ci interessano T nel caso del corpo 1 bilancia il peso parallelo al piano quindi P1 sen alfa e T per P2 bilancia tutto il peso quindi P2 siccome P1 sen alfa è uguale a T e è uguale a T anche P2 ne deduciamo che il peso del corpo 2 quello sospeso verticalmente deve essere uguale a P1 per il seno di alfa quindi quindi se P2 vale M2 G e P1 vale M1 G allora la condizione di equilibrio si traduce immediatamente nel fatto che il peso del corpo 2 cioè la massa del corpo appeso verticalmente M2 per G deve vedere quanto la massa del peso M1 per G sul piano inclinato moltiplicato per il seno dell'angolo che normalmente sen alfa è più piccolo di 1 da cui si deduce che M2 sarà più piccolo di M1 quindi per rendere il sistema in equilibrio è sufficiente una massa più piccola di quanto più piccola beh qui basta semplificare per G M2 vale M1 per il seno di alfa quindi diciamo che se M1 quindi questa è la condizione di equilibrio ok se M1 era una massa di 10 kg e diciamo che l'angolo fosse di che ne so 30 gradi sempre questo tiriamo in ballo allora M2 sufficiente a rendere in equilibrio in equilibrio il sistema vale M1 sen alfa cioè 10 kg per il seno di 30 gradi cioè 5 kg d'accordo? questo è quanto risolvere l'esercizio possiamo anche immaginare di cambiare l'esercizio attenzione se avessi un esercizio in cui mi dicono che M1 vale che ne so 7 kg m2 vale 12 kg e sono in equilibrio quanto vale l'inclinazione del piano inclinato fatemi rifare il disegno abbiamo il nostro sistema con M1 sul piano inclinato no al contrario chiedo scusa M1 era sul piano quindi qui i due ruoli sono invertiti questo M2 questo M1 ecco qui abbiamo M2 legati dalla fune c'è una carrucola questo è l'angolo alfa le condizioni di equilibrio abbiamo appena vista M2 deve essere uguale a M1 per sen alfa quindi il seno di alfa è dato dal rapporto M2 fratto M1 quindi massa pesa diviso massa sul piano inclinato che nel nostro caso vale M2 7 kg diviso 12 kg i 2 kg si semplificano quindi alfa l'angolo alfa vale il seno inverso di 7 dodicesimi che nel nostro caso assume un valore di seno inverso di 7 fratto 12 che da circa 35,69 gradi poco più di 35 gradi attenzione per quanto appena visto ok non posso avere non posso risolvere questo problema se M2 fosse più grande di M1 perché avrei un seno più grande di 1 quindi affinché il sistema sia in equilibrio ok la massa del corpo appeso deve essere sempre più piccola di quella del corpo sul piano inclinato perché altrimenti questa equazione comporterebbe un seno più grande di 1 e non sarebbe insolubile la funzione inversa la funzione inversa allora il seno la funzione seno ti dà se conosci l'angolo ti trova il rapporto il valore del seno se invece conosci il valore del seno come in questo caso che è 7 fratto 12 e voglio sapere qual è l'angolo che ha questo come seno devi usare questa funzione se vai sulla calcolatrice la trovi di solito sono le funzioni seconde quelle scritte in giallo in rosso davanti al tasto su calcolatrice hai un tastino così dove c'è scritto qui seno sin normalmente sopra c'è sin meno 1 ok qui diciamo che se ho l'angolo e voglio il seno dell'angolo uso la funzione sin se voglio fare l'inverso devo usare sin meno 1 conosco il valore del seno in questo caso 7 fratto 12 e mi interessa sapere qual è l'angolo che ha quello come seno ok vediamo vediamo possiamo completare il discorso anche con questo se avessi un doppio piano inclinato immaginate di avere due piani inclinati le inclinazioni diverse alfa 1 a sinistra alfa 2 a destra qui abbiamo la nostra solita carrucola qui c'è il corpo m1 legato alla fune col corpo m2 sull'altro piano anche in questo caso la tensione della fune è la stessa quindi per il corpo 1 ok stavolta ho che la tensione t bilancia la parte del peso di m1 parallela al piano quindi bilancia più 1 sen alfa 1 sul corpo 2 la stessa tensione bilancia la parte del peso di 2 per il seno di alfa 2 quindi il sistema è in equilibrio se quindi più 1 sen alfa 1 vale quanto p2 sen alfa 2 per cui avrò che m1 g sen alfa 1 vale quanto m2 g sen alfa 2 i g posso semplificarli quindi ho m1 sen alfa 1 che vale m2 sen alfa 2 questa è la condizione di equilibrio nel caso di due piani inclinati affacciati un piano inclinato doppio se volete ok e tra l'altro una volta che ho risolto il problema cioè che so quali sono le inclinazioni posso anche calcolare la tensione della fune questo potremmo farlo anche prima magari ecco per esempio nella condizione di prima qui quanto valeva la tensione del filo qui è sufficiente prendere ecco m1 scusato possiamo aggiungerlo qui la tensione t vale da quanto appena visto più uno sen alfa quindi m1 g per il seno di alfa quindi 10 kg per 9 e 81 metri al secondo quadrato per il seno di 30 che viene circa poco meno della metà di 50 newton sarà potremmo fare il calcolo 10 per 9.81 per il seno di 30 viene 49 05 newton questa anche è un'informazione che potrebbe essere utile la tensione del filo oppure equivalentemente il m2 per g deve dare lo stesso risultato ok detto questo dovremmo vedere qualche esercizio dal libro di testa chiudiamo ok quindi vediamo per esempio l'esercizio il 53 la pagina 235 dice uno scivolo di un parco giochi è alto quindi abbiamo un piano inclinato questa è h l'altezza dello scivolo è inclinato 1,8 metri ed è lungo quindi questa è l vale 4,5 metri che in su di esso sullo scivolo si trova un bambino mettiamolo qui che ha una massa m che vale 28 kg la domanda è con quale forza deve afferrare il bordo dello scivolo per rimanere fermo trascurando l'attrito quindi quale forza tiene i bambini in equilibrio quindi la forza deve essere tale che bilancia la forza peso una forza peso parallela al piano quindi deve essere tale che vale mg per il seno dell'angolo alfa l'angolo alfa è questo ma se riguardiamo di nuovo il triangolo di prima qui abbiamo il cateto questo è l'angolo alfa h il cateto opposto al fatemi scrivere un poco meglio il cateto opposto ad alfa è l'elipotenusa quindi il seno di alfa vale cateto opposto h diviso ipotenusa l quindi la formula di prima possiamo riscrivere come la forza equilibrante vale la componente del peso parallela al piano d'accordo che mg al posto di seno alfa possiamo scrivere h fratto l senza necessariamente dover andare a calcolarci l'angolo quindi la forza che tiene i bambini in equilibrio quel con cui lui dovrà grapparsi ai bordi dello scivolo sarà il suo peso 28 kg per l'accelerazione di gravità 9,81 metri al secondo quadrato per l'altezza dello scivolo 1,8 metri diviso la sua lunghezza 4,5 metri fatemi controllare sì qui metri e metri si semplificano e rimane allora 28 per 9,81 per 1,8 diviso 4,5 e viene circa 109,872 newton diciamo approssimativamente 110 newton mentre vi ricordo che il peso del bambino mg vale 28 per 81 con 275 newton circa ovviamente deve equilibrarsi con una forza inferiore al suo peso ci sono domande cercare qualcosa sulla forza del tritone che è il peso del bambino cioè il questa grandezza per bilanciarsi per stare in equilibrio il bambino deve esercitare una forza inferiore al suo peso il suo peso sarebbe 275 newton ma la forza necessaria a equilibrarlo fa lo stare fermo sullo scivolo di 110 newton perché? perché la forza equilibrante vale solo la parte del peso parallela al piano inclinato che è mg per il seno di alfa ed è il seno di alfa più piccolo di 1 ecco forse questo chi chiarisce di più qui abbiamo le solite tre forze no? c'è la forza peso verticale la reazione vincolare R perpendicolare al piano e la forza con cui il bambino si tiene in equilibrio che è una forza diretta verticalmente e è lungo il piano inclinato che è questa forza F o forza equilibrante se preferita nella realtà la forza necessaria al bambino a tenersi fermo è un po' più piccola di 110 perché? perché conterà anche l'attrito di solito gli scivoli sono scivoli perché sono scivolosi appunto quindi l'attrito è piccolo però un po' di attrito c'è quindi la forza con cui deve aggrapparsi ai bordi dello scivolo è mai che vada 110 newton se l'attrito fosse perfettamente nulla tutto questo non volevo scriverlo ecco quindi se ne recupero uno sull'attrito proviamo questo esercizio 31 una pagina 233 dice un pinguino di massa M 33 kg sta scivolando con andatura costante su un blocco di ghiaccio quindi qui c'è un blocco di ghiaccio che è un piano inclinato che ha una pendenza un'inclinazione di 26 gradi il pinguino sta scivolando lungo il piano inclinato e dice che la sua velocità è costante sta scivolando con andatura costante il coefficiente d'attrito tra il pinguino e il ghiaccio vale 0,05 qual è l'intensità della forza d'attrito che agisce sul pinguino allora qui attenzione a questo dato la velocità con cui il pinguino scivola è costante cosa che non accadrebbe se non ci fosse l'attrito qui ci ricordiamo il primo principio della dinamica se V è costante significa che la forza risultante ha intensità nulla e viceversa quindi se la natura del pinguino è costante questo ci autorizza a dire che la risultante è 0 quindi sono nulle sia le componenti della forza risultante perpendicolarmente al piano che lungo il piano dell'astrone di ghiaccio che è quello che ci interessa di più quindi parallelamente al piano quante forze abbiamo? beh abbiamo la parte del peso parallele al piano che è P il peso del pinguino per il seno di alfa e abbiamo la forza d'attrito che vale il coefficiente d'attrito per la reazione vincolare quindi mi volte la reazione vincolare è R vale P perpendicolare quindi mi volte P perpendicolare cioè ancora mi volte M G cosenalfa ok quindi la forza d'attrito a cui il pinguino è sottoposto vale mi per il peso del pinguino M G per il coseno dell'angolo di pendenza del piano dell'astrone di ghiaccio quindi 0,0 cosera 5 per 33 kg la massa del pinguino per G 9,81 metà secondo quadrato per il coseno di 26 gradi mi sembra ricordare che sia 26 gradi in totale abbiamo punto 0,5 per 33 per 9,81 per il coseno eccolo qua di 26 totale circa 14,55 newton ok ed è proprio la forza di attrito che fa sì che il risultante sia nulla quindi il pinguino può scendere la velocità costante qui se non ci sono domande direi che per oggi ci possiamo fermare qui ok 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 Grazie.